Degli studi dell'Expo di Milano trasmettiamo un nuovo impertibile Expo Show! Il mio ospite di oggi è Mangifera Musica, ma per tutti i suoi fan è Manghi Mango! Manghi ha studiato da attore e ora è diventato una celebrità di Bollywood. Ha girato film di tutti i tipi, musicali, d'affetto, drammatici, fantasy, di spionaggio, d'amore, in cui di solito gli danno il ruolo del fratello gemello malvagio. Così mi metto i brividi, può tornare il gemello buono? Ah, meglio, e adesso vediamo la sua scheda video! Gli antenati di Manghi Mango erano già famosi, per esempio Alessandro Mango e Carlo Mango, ma il vero idolo è lui, protagonista di film indimenticabili come Ci siamo tutti? No Mango Io! La grande Manghezza, Forrest Mang, eppure alcuni manga giapponesi. Ha cominciato come semplice comparsa, ma oggi è il mango di riferimento di tutta Bollywood. La sua carica di vitamina C è stata il trampolino per il successo. Il gusto di trementina dei suoi baci ha stordito più di una star. Ma qualche difettuccio c'era anche lui. Ad esempio, il disordine. Si svuota le tasche in ogni momento e i fan, ai ai ai, lo imitano. Questo del buttare roba a casaccio è diventato un vero e proprio fenomeno di massa. Un disastro di fenomeno. Ma lui, dice, ha trovato una soluzione. Allora Manghi, vediamo cosa si è inventato. Magnifico! È io che mi preoccupavo! Allarme è rientrato! Ho detto allarme è rientrato! Qualcuno vada a riprenderlo! Lo trovate nell'umido! Expo 2015 a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre.